La Fiorentina ha trovato un accordo con il Manchester United per la vendita di Sofian Amrabat. La negoziazione. È proseguita oggi con l'atterraggio in Italia di alcuni intermediari del Manchester United. Ha finalmente sbloccato. La partenza di Amrabat apre le porte a Maxime Lopez. Ufficialmente un nuovo giocatore viola. Accordo trovato dopo una lunga e travagliata negoziazione fiorentina. È riuscito a definire il passaggio di Amrabat all'Unitè in Italia per chiudere l'accordo. Arriva Lopez l'ingresso di Fiorentina. Ha accolto con il benvenuto a Maxime Lopez. Il nome francese è emerso con forza al mattino. Dopo le combinazioni con L Inter ieri. Fiorentina ha trovato un accordo con Sassuolo per un prestito per un milione di euro. Con il diritto di rimborso a 9 milioni.